Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi giocheremo a 1,2,3 stella siiii ma non era 1,2,3 stai la come? non era 1,2,3 stai la stai la? no no è stella ma su internet ho letto che si dice stai la noi credevamo che si dicesse stella ma in realtà si dice stai la cioè è 1,2,3 stai la no è 1,2,3 stella è sempre stato così ma magari era 1,2,3 stai la e noi non lo sapevamo vabbè dato che abbiamo sempre detto 1,2,3 stella continueremo a dire 1,2,3 stella ma se si dice 1,2,3 stai la perché dobbiamo dire 1,2,3 stella? cioè non sarebbe giusto ma io ormai sono abituato a dire 1,2,3 stella e vabbè disabituati si dice 1,2,3 stai la vabbè quindi devo dire 1,2,3 stai la sii vabbè dai dai iniziamo a giocare siiii allora aspettate 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 ricapitolando mentre lui conta dobbiamo avanzare verso la parete giusto? si veloci Marco giusto e quando si volta dobbiamo rimanere tutti fermi esatto chi si muove mentre lui è voltato torna indietro e l'obiettivo è quello di toccare la parete si e il primo che tocca la parete urlando stellone vince giusto? giusto dai ora giochiamo ok avevo bisogno di un ripasso io voglio stare accanto a veloci Marco eh sento che sarà una sfida molto dura ma cosa stiamo giocando? a 1,2,3 stai la timone timone ok allora inizio a contare vai sono pronta 1,2,3 stella ah timone ma che cavolo ci fai qui? a cosa stiamo giocando? a 1,2,3 stella ah e quindi che devo fare? devi tornare indietro e non devi muoverti non devo muovermi? si cioè puoi avanzare solo mentre conta ah ok il tuo obiettivo è toccare la parete e urlare stellone ok ma mentre sono voltato verso di voi non devi muoverti ok quindi non devo muovermi non devi muoverti ok non mi muovo ok ora riprendo a contare ma sei ancora qui? eh non mi sto muovendo ma non devi rimanere immobile qui devi tornare indietro eh ok torna indietro e poi non mi muovo più esatto potrei muoverti solo mentre conto ok quindi torna indietro e non mi muovo esatto torna indietro e non muoverti ok ah santa pazienza un due tre stella arex ma che ci fai qui anche tu? si dice stai là e l'ho detto ho detto stai là no hai detto stella veramente ho detto stella? si ah e vabbè è l'abitudine eh ma non va bene così siamo sempre stati abituati male devi dire stai là va bene dirò stai là ok ecco bravo ora torna indietro si torna indietro un due tre stella cioè volevo dire stai là tutti molto fermi che bravi bene procediamo un due tre stella ah che cavolo stai là veloci Marco ha fatto un passettino in avanti che bravo mentre tutti gli altri non si sono mossi di una virgola bene un due tre stai là la situazione si fa interessante Arex ha addirittura superato veloci Marco avrai mica barato? perché non rispondi? hai barato non è vero? ma no che non ho barato come faccio a barare? Arex ti sei mosso torna indietro cosa? ma no e dai sei tu che mi bombardi di domande quindi è colpa tua hai barato tu che bello che bello un due tre stai là che bravo veloci Marco hai fatto più di qualche passo in avanti però non sei totalmente fermo stai tremando perché stai tremando veloci Marco per caso hai paura di me? no è che sono in equilibrio su un piede maledetto oh povero veloci Marco beh torna indietro cosa? ma dai ma non vale si invece hai tremato per tutto il tempo quindi torna indietro uffa un due tre stai là ma 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 siete caduti tutti e tre insieme ha fatto Mauro non hai scelto una posizione molto comoda almeno non hai il sedere di un tirannosauro spiattellato sulla faccia veloci Marco ti sei mosso torna indietro cosa? ma 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 dai non è possibile si e hai anche parlato non è vero non ho detto niente si è vero ha parlato Fimone torna indietro vabbè che tu non ti sei mai mosso da lì odio questo gioco molto bravo Alex molto bravo ha fatto Mauro torna indietro si ma non è giusto ho fatto una faticaccia a rimanere in equilibrio sulle due zampe anteriori si ma alla fine sei caduto perciò torna indietro mannaggia ok ricominciamo uno due tre stai là molto bene molto bene molto bene anche nonna Sauro ha iniziato a fare qualche passettino in avanti Fimone è sempre fermo lì allo stesso punto e poi c'è Arex che sta imbrogliando ah ah non è vero avanti torna indietro vabbè ma tu non stavi guardando eri voltato dall'altra parte quindi vale no che non vale non stavo contando si ma uffa non è giusto e va bene però non vale ah ma stai zitto un due tre stai là oh oh mamma oh mamma Arex torna indietro oh e mannaggia un due tre stai là oh 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 ah uffa Arex torna indietro caspiderina e laccia un due tre stai là oh cavolo 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 veloci Marco torna indietro eh dai ma sono caduto un due tre stai là eh eh aspetta aspetta nonna Sauro torna indietro oh mannaggia un due tre stai là accio ha fatto Mauro torna indietro ma era solo uno sternuto non importa torna indietro comunque ah ci picchia un due tre stai là ah 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 veloci Marco torna indietro sì ma mi hai spaventato non è giusto un due tre stai là sto fermo sto fermo sto fermo sto fermo Arex torna indietro ma come ma non è giusto un due tre stai là ah ah stai là stai là stai là nonna Sauro torna indietro veloci Marco torna indietro Apatomauro torna indietro un due tre stai là uh 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 Arex torna indietro oh oh e che cavolo un due tre stai là uh 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 Arex torna indietro oh ancora un due tre stai là ah 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 Arex torna indietro sì però uffa un due tre stai là uh uh fermo fermo Arex torna indietro ancora e mannaggia ah ah Arex oh scusa veloci Marco un due tre stai là Arex torna indietro oh 1 due tre stai là Arex torna indietro oh mannaggia Arex torna indietro uh Arex torna indietro di nuovo Arex torna indietro ma come hai fatto a vedermi Arex torna indietro sto tornando indietro 1 due 3 stai là Arex torna indietro oh e basta un due tre stai là Arex torna indietro hehehe Un, due, tre, stai là, Arex torna indietro Non ti sopporto più Un, due, tre, stai là, ha fatto Mauro torna indietro Ma non mi sono mosso Un, due, tre, stai là Veloci Marco torna indietro Ti odio bastatore Un, due, tre, stai là Nonna Sauro torna indietro Mannaggia Un, due, tre, stai là Fermo come la pietra, eh Non ti muovi, eh Molto bravo, molto bravo Vediamo gli altri Nonna Sauro non si muove Apatomauro e Veloci Marco non si muovono E Fimone è rimasto sempre fermo lì allo stesso punto Ricominciamo Un, due, stai là Ah, no, cavolo Ho vinto io Accidenti, ha vinto Arex Beh, è stato molto bravo Ed è anche stato beccato tante volte Direi che si è ripreso bene Quindi ho vinto io, vero? No che non hai vinto tu, Fimone Non ti sei mai mosso da lì? Ma hai detto tu che dovevo rimanere fermo Dovevi rimanere fermo mentre contavo, non per tutto il gioco Ah, non avevo capito Quanto sei stupido Quindi ho vinto io? Beh, che dire, è stato super divertente, vero Vastatore? È certo che è stato divertente, hai vinto tu Eh, vabbè, dettagli Comunque mi è venuto un dubbio Se non si dice un due e tre stella Ma un due e tre stai là Una volta arrivati all'obiettivo Bisogna urlare stellone o stai làone No, beh, stellone E perché stellone se le stelle non c'entrano niente? Forse perché ho sempre avuto ragione io E si dice un due e tre stella E non un due e tre stai là No, io sono abbastanza sicuro che si dica un due e tre stai là Secondo me è un due e tre stella No, è un due e tre stai là E una volta raggiunta la parete Bisogna dire stai làone Ma per favore, Arex La prossima volta diremo un due e tre stella E non se ne parla più Vabbè, fa come vuoi Voi cosa ne pensate, ragazzi? Vi è piaciuto questo gioco? Ma soprattutto, vi è piaciuto il video? Mi raccomando, fatecelo sapere in un commento su Instagram E noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti!